Si gira quarta Allora, buonasera Innanzitutto i vostri nomi, prego Elisabeth, Claudio e Claudio Perfetto, a voi la prima domanda Allora, com'era vestita lei la prima volta che vi siete visti? Cioè aveva una camisetta e un paio di jeans normali, casual Com'era vestito lui la prima volta che vi siete visti? Una felpa e jeans, sempre casual Ok, dove vi siete dati il primo bacio? Era l'eterme a Viterbo Terma, sì Conferma? Lei conferma, giusto? Il gesto più carino che lui ha fatto per te? Ma tanti, cioè uno in particolare non proprio Non è che mi manca Cioè sempre, spesso Fiori, che ne so, i regali E anche qualche viaggio romantico Non lo so Però insomma, bene Qualcosa di rifattualmente romantico che ha fatto lei? Ah, posso mettere il mio figlio? Oddio Penso che è il miglior gesto che si può fare Bene Se la vostra storia dovesse essere un film Che titolo le dareste? Lo potete anche inventare Quindi non deve essere un film che esiste Questa è una domanda Bella domanda Amore infinito Amore, amore infinito Lei conferma? Sì, sì, confermo Perfetto Grazie ragazzi, molto gentili Un saluto Ciao Ciao Ciao